... Quest'anno ViviCittà in 41 città d'Italia, 17 nel mondo, 24 istituti penitenziari a Catanzaro, il percorso è di 12 chilometri. Abbiamo visto tanta gente, tanta gente anche che arriva da lontano. Sì, è una caratteristica della ViviCittà che si corre da 34 anni, sempre all'insegna di un tema sociale o ambientale. Quest'anno la gara è legata al tema dei rifugiati, infatti abbiamo anche la presenza di alcuni rifugiati qui e un euro per ogni iscrizione andrà esattamente ad allestire dei campi sportivi nei campi profughi in Libano per i bambini seriani che stanno soffrendo tanto in questo momento. Danilo Ruggero Bissa, il successo dello scorso anno è lui il vincitore di ViviCittà 2017, dietro Davide Pirrone e poi Antonio Maggisano. Chantel e Nadim se la giocano fino all'ultimo metro, ma la vittoria è per Chantel. Diciamo che non pensavo mai di correre a questi livelli, arrivare tra le prime tre, quattro e invece sta succedendo ora, quindi per me è sempre una novità. Grazie.